Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Salve ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Everdale. Benvenuti in questo secondo episodio della nostra serie su questo gioco. Oggi andiamo a sbloccare, secondo me, l'artefatto più raro all'interno dello stadi. Infatti, io adesso vi lascio la clip dove ho sbloccato la Valley, la cosa secondo me più importante all'interno del gioco che vi permette di salire molto più velocemente e di scoprire un sacco di cose veramente particolari che prima sicuramente non avreste scoperto. Quindi vi lascio direttamente qui la clip dove la vado a sbloccare. Ok, eccoci qua con tutta la Valley, la andiamo subito a sbloccare all'interno dello stadi. The Valley, sbloccata, ok. E adesso ci dovrebbe fare inserire, mi sa, il nome. Inseriamo il classico nome Vapor, verifichiamo che sia giusto, togliamo la R, comunque dovrebbe essere Vapor giusto. Perfetto, ok. Sbloccata appunto la Valley che, come vedete, è questo artefatto all'interno dello stadi. Se andate nello stadi, vedete The Valley, l'abbiamo sbloccata. Adesso sto per sbloccare una nuova casa, ci vuole ancora un po' di tempo, ma siamo sulla cresta dell'onda, quindi stiamo riuscendo a sbloccarla. Attraverso la Valley ho avuto la possibilità anche di cambiare il nome, infatti adesso mi chiamerò finalmente Vapor e posso anche personalizzare l'icona. Per adesso mi sento un po' una nocciola, quindi teniamoci un po' la noccioletta tanto per... Cosa cambia con la Valley? Cambia, cambia molte cose. Cambiano molte cose che sicuramente molti di voi non conoscono, ma cambiano molte cose. Infatti, zoomando all'indietro, avremo la possibilità, una volta entrati nella Valley, di vedere tutto quello che è la nostra vallata. Io faccio parte della vallata dello Xacumu e appunto avete la possibilità di vedere un sacco, un sacco di cose che prima non potevate vedere. Potete visitare ad esempio i villaggi, zoomando e rizzoommando indietro, nel caso appunto non volete più vedere un personaggio. In questo caso questo ragazzo qua online lo possiamo andare a visitare, rizzoommando indietro possiamo allontanarci. Insomma, ci sono un sacco di cose da fare. Inoltre, in alto a sinistra avete la possibilità di schiacciare il tasto Leaderboard e di guardare tutte le classifiche delle migliori valleys all'interno del mondo. Infatti qua troviamo anche una valleys italiana che si chiamava Italian Valley, che vabbè adesso non si può andare a vedere, ma comunque ragazzi non vi preoccupate che ci sono un sacco di novità che prima non potete vedere. Schiacciando il tasto dei cuoricini qua in alto a sinistra avete la possibilità di visualizzare tutta la Reputation Road. Infatti ci sono un sacco di punti, se arrivate tipo 28.000 cuori potete guardare la Big Reward Chest, insomma un sacco di cose che normalmente senza la Valley non potreste sbloccare. Quindi mi raccomando ragazzi cercate di salire nella Reputation Road. Schiacciando il tasto questo qua in alto, in basso questo qua dei tre omini potete vedere i membri della vostra Leaderboard, come salire all'interno della Leaderboard. Infatti in questo caso abbiamo tutti zero cuori tranne un ragazzo che ha più cuori degli altri e avete la possibilità di andare nella chat e di vedere tutte le richieste d'aiuto. Ad esempio schiacciando Sand Help abbiamo la possibilità di schiacciare sopra la barca e ci verrà fuori questo messaggio di Gilda Bormaster che c'è scritto che si può andare ad utilizzare all'interno delle barche alcune cose che prima non si potevano fare. Infatti possiamo selezionare tipo di completare la quest delle 15 uova, insomma un sacco di because che prima non si potevano assolutamente fare. Ci sono un po' di token che si possono sbloccare all'interno della mappa. Ad esempio posso schiacciare tipo di selezionare che do, devo dare 18 di legno in questo caso e se schiaccio Take Task in teoria una volta che ho i token posso completare questa sfida. Insomma ci sono un po' di cose che si possono fare che senza Valley non si potrebbero sicuramente fare. Il token ne sbloccherò uno fra 24 minuti, quindi fra 24 minuti avrò l'opportunità di avere il token e di completare una sfida finalmente, cerchiamo di farcela perché sicuramente sarebbe interessante trovarla. Qua c'è anche la sorta di voti, io voto quello vuoto così almeno siamo a posto. E per tornare al nostro villaggio molti di voi si chiederanno come si fa a tornare al nostro villaggio? Molto molto semplice, basterà semplicemente, qua in realtà si possono vedere delle cose che prima non si potevano vedere, basterà rizumare all'indietro, andare nel nostro posto del villaggio e rizumare all'interno del nostro villaggio. Una volta rizumato all'interno del nostro villaggio automaticamente la schermata passerà da Valley a quella che effettivamente era prima della fine del nostro villaggio. Qua continua ad andare avanti il nostro creatore di zuppa e qui il Warhouse continua a creare delle figurine che poi vi farò vedere in un prossimo video come funzioneranno. E vi farò vedere anche il baule che si sblocca attraverso l'Otto's Trading Buff, infatti ci sono delle cose particolari che senza l'Otto's Trading Buff non potete sbloccare. Insomma, ci sono un sacco di cose da vedere riguardo a questo gioco e questa serie durerà veramente veramente tanto e ve la porterò con abbastanza costanza all'interno del mio canale, sperando che naturalmente a voi piaccia. Vi ricordo di andare a vedere i scorsi video che sono usciti sul canale perché ci sono alcune cose molto molto carucce. Ed inoltre ragazzi adesso andiamo ad utilizzare un nettere così vi faccio vedere com'è il funzionamento. Infatti avete la possibilità di utilizzare un nettere, in questo caso un minuto, schiaccieremo il tasto Boost e schiacciando il tasto Boost noi andremo a schippare quello che è il processo di creazione delle nostre cose. Infatti in questo caso come vedete va molto più veloce la creazione della zucca, la ricerca, insomma tutto ragazzi andrà molto molto più veloce. In questo caso ho sbloccato anche la mia prima figurina che andremo poi a sbloccare in un futuro ragazzi. Quindi come vedete attraverso questo nettere che si produce un ogni quattro ore abbiamo la possibilità di boostare tutto quello che è il processo del nostro villaggio. Che secondo me è la cosa più effettivamente importante. Inoltre ci sono alcune farm con sbloccato come la farm di clay, infatti attraverso questa farm di clay ho infinita clay e la farm di legno che si chiama appunto evergrove. Questo qua è tutto il dintorno del mio vicinato che devo ancora sicuramente andare a migliorare, andare a disboscare. Insomma c'è un sacco di cose da fare che andremo poi a fare pian piano. Qua c'è anche un'altra clay pit ruins da riparare, un altro evergrove. Insomma ci sono un po' di cose da fare, questo sicuramente. Nel mentre che continuano a farmare i miei amici io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Naturalmente ragazzi se fosse così vi invito a lasciare un pollicione all'insù e di passare domani alle 14 qua sul canale per un nuovo video short che uscirà sicuramente. Quindi passatelo e andatemi a seguire nei tutti i link che vedete qua sotto in descrizione che sono molto molto importanti. Spero appunto che questo video vi sia piaciuto, condividetelo con i vostri amici e fatele sapere come scaricarlo attraverso il video che vi ho lasciato lo scorso giorno. Infatti se andate nella ricerca dei miei video precedenti avete la possibilità di vedere appunto il video in cui vi faccio vedere effettivamente come andare a scaricare questo fantastico gioco nuovo ed è la Supercell, ve l'ho già detto nello scorso video. E quindi niente, noi ci vediamo in un prossimo video sempre qua online sul canale. Ciao! Ciao!